Uno su quattro dice di tornare alla Lira, che non hanno capito quello che potrebbe succedere, non hanno capito, diciamolo chiaramente. Aspetta un momento, Presidente Recchi, che cosa significherebbe tornare alla Lira? Mamma mia, non sappiamo neanche come fare. Guardi, nessuno lo sa, fa solo una gran paura perché quello che è certo è che ci sarebbe una svalutazione fortissima, una perdita poi dei valori patrimoniali. Già abbiamo subito un grosso, abbiamo passato attraverso una grossa fatica quando siamo passati all'Euro, perché il cambio con cui siamo entrati fu un cambio che penalizzò i valori, ad esempio, degli immobili che erano detenuti dai risparmiatori italiani. Ritornare alla Lira creerebbe veramente un'incertezza tale che col debito che l'Italia si trova non si saprebbe più se riusciremmo a rifinanziare. È verosimile la voce che gira di una svalutazione del 40%? Dei beni? Cioè uno che ha 10.000 Euro da parte di fatto come potere di spesa si troverebbe con 6.000 Euro? Quello che si sente dire, però nessuno è riuscito a fare un conto esatto di cos'è il costo del break up dell'Euro, per cui è talmente spaventosa l'ipotesi che è l'ultima delle cose che ci dobbiamo augurare e per cui continuiamo a far lavorare Monti e i primi ministri dei paesi europei perché l'Euro tenga e l'Europa stia insieme. Quando dieci anni fa siamo entrati nell'Euro, un Marco, prima di entrare nell'Euro, un Marco valeva meno di 1.000 lire. È stato calcolato che adesso varrebbe un Marco 1.400 lire. Questo tra l'altro per le nostre esportazioni sarebbe in una situazione di disastro generale e insomma diventeremo molto 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 competitivi, quindi bisogna stare attenti tutti quanti a come giochiamo. Andiamo avanti ancora? Vediamo un terzo cartello, la gente, vedete il 70% capisce che un ritorno alla lira sarebbe un disastro per l'economia anche se il 17% ritiene che un ritorno alla lira sarebbe positivo. Ancora una volta questi non hanno capito niente, sarebbe un disastro, varrebbe meno la casa, tutto, diciamolo con chiarezza. Però c'è un italiano su 5, un italiano su 4 che vuole il ritorno alla lira perché dice liberiamoci di questi tedeschi con tutto rispetto e così ce la facciamo da sola. Abbiamo un ultimo cartello. Ma come si fa una liberarsi di Ella Weber? Ma come si fa? Ma non si può. Ma il problema è che non mi prendono più. Non ti prendono più? Che disastro. Però guardate questo ultimo cartello. La domanda era, l'euro ha penalizzato l'economia italiana, ora il 67%, quasi 7 italiani su 10, dice di sì. Cioè noi viviamo l'euro come una penale, come una tassa imposta per essere più rigorosi, per perderci, eccetera, eccetera. Il che non è vero. Occorrerebbe una bella campagna di comunicazione su questo e per dire che un ritorno a che l'euro ci ha fatto comodo anche a noi. Io ho anche lanciato un referendum euro perché credo che su una materia di questo genere che tocca le tasche di tutti gli italiani dovrebbero essere gli italiani anche a decidere il futuro della moneta e se ne discute. Questa Europa dico no, l'euro come oggi dico no. Il grosso dell'elettorato moderato è un elettorato che ha dei risparmi, ha degli interessi economici, anche dei risparmi consistenti. Se te gli dici torniamo alla lira e nei primi due o tre anni ti si svaluta quello che hai del 30%, mentre un operaio che prende 1000 euro se gli svaluti del 30% sempre sono 700 euro, ma resta sempre... Quindi secondo me lì c'è proprio un errore strategico. E infatti quello che diceva lui è interessante, sta sondando secondo me gli umori. Si pensa che invece sia una bestemmia questa dell'uscita all'euro? Una sciocchezza, non è una bestemmia, nel senso che appunto ci perderebbero soprattutto le fasce più deboli della popolazione che ora sono la maggioranza però della popolazione visto lo stato di difficoltà economica del paese. Cioè chi ha i risparmi si troverebbe quei risparmi svalutati, chi ha uno stipendio si troverebbe quello stipendio svalutato ci guadagna, chi magari mantiene un po' di capitali all'estero che li troverebbe a quel punto sì in euro rivalutati. ...entrata in funzione l'euro, noi non abbiamo più potuto usare le cosiddette svalutazioni competitive che ci avevano portato a sostenere le nostre esportazioni e guardando la bilancia dei pagamenti dal momento dell'entrata in migore dell'euro il nostro bilancio dei pagamenti discende in maniera regolare. La bilancia dei pagamenti della Germania sale in maniera impetuosa. Quindi una moneta propria consente anche attraverso il sistema eventuale delle svalutazioni competitive di aumentare le esportazioni perché le monete forti hanno vantaggio nell'acquisire beni che sono stimati come prezzo nella nostra moneta e che anche i consumatori italiani preferiscono comprare meno prodotti stranieri e più prodotti italiani perché i prodotti stranieri diventano più costosi. Questa non è una bestemmia, ci sarà scandalo di fronte alla ipotesi di una cosa di questo genere. Che cosa può succedere se si ritorna a una propria moneta da parte della Spagna, da parte dell'Italia, magari da parte della Grecia? Io non lo so con precisione. Può darsi che ci possa essere una perdita di ricchezza. Non arrivo a capirlo. Gli immobili sono lì, l'82% delle famiglie italiane ha la propria casa. Non credo che questa casa possa subire una perdita di valore nel mercato interno. E sta sondando il terreno sull'uscita dall'euro. O possibile ritorno alla lira, ma i formattatori che ne pensano di questo? Guardi, sull'uscita dall'euro non ci troviamo molto d'accordo. Nel senso che bisogna essere seri e io credo che alla fine anche una coerenza, una serietà nei confronti degli elettori paga. Molti del nostro schieramento, della nostra parte, oggi dicono che tutti i problemi che abbiamo sono perché sosteniamo il governo Monti. Qualcuno dei problemi probabilmente è anche quello, qualcuno, però a volte anche i segnali totalmente incoerenti che diamo, no? Cioè votiamo le fiduce, diamo l'ok ad alcune decisioni impopolari e poi le rinneghiamo usciti dall'aula. Non è che aspetta la trasmissione di porta a porta per conoscere qual è l'atteggiamento degli italiani nei confronti della lira e dell'euro. Ecco, e quindi fa una battuta di questo genere, che è una battuta pericolosissima evidentemente, ma che crea una grande identificazione. Perché, come al solito, è un grande interprete del pensiero o della pancia, non lo so, degli italiani. Ecco, io penso invece che la politica abbia un altro compito, che è appunto quello di riuscire a superare, a far superare gli atteggiamenti negativi che ci sono nei confronti invece delle cose giuste e buone che bisogna fare. Ora, il ritorno alla lira, appunto, giustamente, nessuno sarebbe in grado di calcolare i disastri che provocherebbe, non soltanto nel nostro paese, ma io credo anche nell'intera Europa, e quindi vorrebbe dire che l'uscita dall'euro dell'Italia significherebbe la fine dell'euro, significherebbe la fine dell'Europa. Cioè, vorrebbe dire che questa crisi andrebbe a colpire paradossalmente ciò che più nessuno aveva nel mondo per poter far fronte a una crisi come questa, perché noi abbiamo lo strumento più grande di tutti, che è quello di avere una zona così grande, un mercato così grande, di paesi che si sono messi insieme, non perché qualcuno li ha costretti, ma perché si sono voluti mettere insieme, che hanno creato un'unica moneta, un'unica economia, che da anni sperimentano che cosa significa stare insieme, che poi fanno degli errori, come il trattato di Maastricht, secondo me, che è stato uno dei momenti più bassi dell'Europa. Bisogna uscire dall'euro, dai, c'è questa domanda, contenuti, contenuti, bisogna uscire dall'euro. Non c'è più l'euro. Ma dico, ma ci puoi spiegare, per favore. C'ho delle zecche io, allora, c'ho delle zecche da sposti. Ci puoi spiegare veramente, a parte lo scherzo. Fatemi uscire, dai, fammi uscire. Grillo, ci spieghi per favore. Non è un'intenzione. Cioè, si può sapere, semplicemente, un'idea sull'euro? Ti dico solo una cosa. Ognuno si sta ricomprando il debito. Gli spagnoli, gli greci, gli italiani si stanno ricomprando il debito. Ognuno si riprende il proprio debito. Quindi, che cosa sta succedendo? Che l'euro non c'è più. Il debito sta sottottenendo l'euro. I meccanismi del debito, dell'interesse sul debito, saranno i meccanismi che controlleranno l'economia. Cioè, l'inflazione, il potere d'acquisto. Quindi, il debito sta sostituendo la moneta dell'euro. Non c'è più. Lei ha proposto queste cose. Sì. O un marco... Ma bisogna... Io ho proposto di sedersi a un tavolo e discutere quali potrebbero essere le conseguenze di uscire, quali potrebbero essere le conseguenze di rimanere così. Ho solo chiesto, ho detto, discutiamo. Perché non può essere un tabù l'euro. Assolutamente. Qual è la soluzione? Quella potrebbe essere la soluzione. È la zecca di Berlusconi. Usciamo dall'euro. Per andare dove? Perché chi può cavarsela sempre se la cava, anche se usciamo dall'euro. Ma la gente che è qua, che è in giro e vive in Italia, normalmente, ci rimarrebbe sotto, eh. Quindi, attenzione anche alle parole. Queste teorie o giochi di fumo alla fine li stanno, come dire, schiantando intorno al 10%, perché la gente è mica stupida a sentirsele raccontare per 17 anni. Secondo, va bene raccontare usciamo dall'euro illudendo le persone anche che sono in difficoltà o pensando che gli imprenditori abbocchino, perché non è che ci sia solo la Sant'Anchè, imprenditrice italiana. Ci sono io e ci sono tanti altri. Che uscire dall'euro è... Se sei contento tu della riforma del mercato e del lavoro mi fa piacere. È un modo di spronare Monti. Il leader, perché ancora, insomma, Berlusconi credo che abbia ancora voce in capitolo, lo si è visto anche in questi giorni, di uno dei principali partiti che sostengono la maggioranza e l'azione del governo, che dice usciamo dall'euro, a mio giudizio non è un modo per aiutare il Presidente del Consiglio. Ma vorrei dire agli italiani, perché la Sant'Anchè può dire tutto quello che vuole e ci mancherebbe altro. Quindi io non voglio interagire... Eh, ci mancherebbe altro. Non è che voglia qui interagire e riscontrare tutto ciò che dice. Voglio parlare anche a noi e ai cittadini italiani che magari hanno qualche dubbio. L'uscita dall'euro è una roba da matti, a mio giudizio. Cioè significa che rischiamo di perdere tutto ciò che... quel tanto o quel pochissimo che abbiamo. chi ha una pensione, quel poco di pensione che ha potrebbe risvegliarsi con una svalutazione del 50% e del 70%. Chi ha un'attività, domani mattina c'è un crollo del PIL del 50%. Cioè entriamo in una fase, vorrei dirlo a chi ci guarda, dove non ce n'è più per nessuno. Il tuo mutuo, che prima era in euro, passando alla vecchia valuta, si svaluta immediatamente la vecchia valuta, un meccanismo economico. Quindi? Il tuo mutuo cresce. Quindi cresce nel prezzo che avevi concordato. Certo, perché il tuo era in euro. Quindi se mettiamo questo, la dracma entra sul mercato, vale il 40% in meno dell'euro, il tuo mutuo che era in euro vale il 40% di più. Per cui tu devi pagare il 40% di più sul costo della tua casa. Non solo. esce la nuova valuta. La nuova valuta che si svaluta, abbiamo detto, la banca centrale è costretta ad alzare i tassi di interesse. Immediatamente, quello succede negli anni 90. I tuoi tassi volano, il mutuo che ora lo paghiamo al 3,5%, lo pagheremo al 15%, il tasso di interesse. Questo è lo scenario.